ecco a voi un altro video editato in post produzione perché l'audio non vuole andare in più sono pure ammalato quindi a proposito di questa foto qui in pratica c'erano tre shorts mettete uno vicino all'altro su youtube dal computer quindi ho fatto la foto perché sembrava un video tra me Giampi e Suri che sembrava divertente ma vabbè ma adesso cuciniamo una bellissima pasta al pesto vedete acqua che non bolle e il pesto la pesto potrei anche fare un vegan burger pazzo sgravo al pesto anche in teoria ma vabbè non voglio morire giovane guardate i spaghetti che bollono che bollore atrofizzante dovrebbero cuocere 5 minuti io farò cuocere 3 minuti guarda il pesto sembra merda di capriolo pugliese adesso noi mangeremo questi spaghetti che sentite scrocchiano perché sono crudi metà crudi metà scotti come piacciono a me metà crudi e metà scotti ma poi con tutto sto pesto porca troia non ho nemmeno salato la pasta quando faccio il pesto perché sono un genio guardate che faccio di disperazione l'animo perso nei confronti di umanità mangiando 250 grammi di spaghetti in un piatto guardate com'è triste tutti i suoi disideri sono stati infranti e non riuscirà mai a trovare qualcuno guardate la morte nei suoi occhi veramente divertente guardate sta per morire quanto godo cioè volevo dire guardate la disperazione nella sua anima non ha più un ardore di speranza mangiando una buonissima pasta non salata perché non ha messo il sale nell'acqua e mezza cruda e mezza scotta veramente buono guardate quanto è disperato ma tagliate le passette pirla ma tagliate le passette